Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. E' stata questa una settimana bella frenetica perché con il nuovo aggiornamento si sono scombussolate un po' le carte del meta e di conseguenza tante domande mi sono state anche fatte sul chi adesso dobbiamo andare a prendere in questo ruolo? Ma quell'attaccante è ancora forte o meno? Bene, quindi con oggi inauguriamo ufficialmente le top ruolo per ruolo rinnovate dopo l'aggiornamento. Anche perché secondo me è doveroso fare dei chiarimenti perché ho visto tanto casino e tanto caos a seguito di alcuni video che magari vi siete ritrovati davanti su TikTok eccetera di gente che ne capisce veramente poco e ha fatto succedere il delirio. Quindi oggi partiamo dai difensori centrali, mettiamoci comodi e andiamo subito a vedere quali sono i migliori 10 al momento secondo me. Il primo lo vedete è Lusio ma ve ne parlerò a breve perché prima di fare questo ci tenevo a fare una doverosa precisazione. perché l'aggiornamento come vi ho detto nel video delle tattiche post patch non è che è andato a nerfare quindi a ridurre quella che è la potenza dei giocatori lenti con la corsa prolungata ma bensì ha semplicemente bilanciato tutto quello che è il discorso corsa per cui i giocatori che hanno Controlled o Explosive quindi quando si può trasformare lo stile di corsa è sempre bene trasformarlo da Controlled a Explosive effettivamente corrono secondo quello che è il loro valore delle statistiche per cui se noi abbiamo un giocatore con Controlled ma che ha 75 di velocità in 6 move se invece noi abbiamo un giocatore Controlled ma che ha 90 di velocità questo effettivamente corre e questo non vuol dire assolutamente che i giocatori lenti sono diventati scarsi chiaro magari in un ruolo come il difensore centrale adesso ritrovarsi attaccanti che corrono di più può dare fatica ma a maggior ragione noi dobbiamo andare a sfruttare il fatto della loro corsa prolungata che è quello che lo rende forte e utilizzabile al top tra i vari difensori una carta come quella di Lusio o di quelle che vi mostrerò a breve quindi non panicate su questo tema perché vi ripeto i giocatori con la corsa prolungata sono sempre assolutamente forti semplicemente adesso hanno un po' più di concorrenza e soprattutto in un ruolo delicato come il difensore centrale si ritrovano ad essere un po' in difficoltà ma non perché sono diventati scarsi loro ma perché i giocatori sono un po' più veloci in linea di massima detto questo partiamo dal primo e il primo è Lusio nella sua versione chiaramente roede mondiale che ho avuto la fortuna di trovare non scambiabile ma il discorso è speculare per la versione 89 visto che non è che c'è questa grande differenza se non l'avessi trovato non scambiabile probabilmente non l'avrei preso questo è un difensore totale è 1,98 m il work rate di quelli perfetti normale alto 3 skill 4 piede debole un body type della madonna perché questo fisicamente sposta chiunque è molto veloce con l'L2 si muove benissimo infatti 74 di agilità e 88 di reattività sono parametri top statistiche difensive che non ve le sto neanche a raccontare perché 92 di intercetto e 93 di lettura difensiva parlano di un difensore full automatico e ancora di più 92 di forza e 90 di aggressività sono parametri che completano il pacchetto secondo me del difensore proprio modello questo è un supereroe lo vedete e anche in campo rende come tale al secondo posto un giocatore che mi ha stupito che è Calidu Coulibaly Path to Glory ovvero una carta dinamica qualora il Senegal dovesse superare i gironi e poi andare ulteriormente avanti nel mondiale questo si upgrada a step e soprattutto in ottica upgrade è molto interessante questo giocatore qua 1,87 m quindi più o meno come l'usio un body type diverso leggermente più snello ma che lo rende più agile ed incisivo nei contrasti 2 di skill 4 piedi debole anche per lui body type perfetto velocissimo questo Coulibaly è uno dei pochi che ho notato tenere in velocità i vari Gino Lamba quindi parliamo di attaccanti top meta pecca un po' per quanto riguarda le statistiche puramente agilità 54 equilibrio 44 ma vi assicuro che con la reattività 88 si sente tutto e questo paradossalmente rispetto magari un lusio al via 74 in agilità questo si muove molto meglio ottime le stats difensive tanta roba col 96 di forza che raramente gli fa perdere contrasti 85 di aggressività un parametro un po' più basso rispetto all'usio ma comunque ottimo e soprattutto vi ripeto considerando che questa carta potrebbe diventare ancora più forte io ho pensato di prenderla mi ci sono trovato molto bene e ha superato nelle gerarchie per me Van Dijk così come un altro giocatore che per me con l'aggiornamento è riabilitato completamente supera probabilmente anche Virgil è proprio Tomori 1,85 quindi a scaletta pian piano perdiamo centimetri normale alto 2 di skill e 4 piedi debole quindi più o meno come i Coulibaly sotto questo profilo rapidissimo 91 di velocità scatto agilità 77 reattività 88 questo con l'L2 è un fulmine di guerra statistiche difensive che sono leggermente più basse rispetto all'usio e Coulibaly infatti ho un pelino pelino più manuale ma comunque tanti interventi automatici ve li fa forza 86 aggressività 85 e considerando anche quelli che sono i link magari con un Teo Hernandez di cui poi parleremo nel video sui terzini questo Tomori per me è nella top 3 al momento dei migliori difensori un sempreverde chiaramente è proprio Virgil normale alto 1,93 2 di skill 3 di piedi debole giocatore anche questo che tanti hanno panicato l'hanno venduto l'hanno fatto calare di prezzo ma fa assolutamente il suo perché rimane comunque veloce sul lungo con l'L2 è quello che rispetto ai tre precedenti fa un pelo più fatica però poi tra stats difensive 93 di forza 85 di aggressività non può che mantenere il primato lì davanti un altro giocatore invece riabilitatissimo e che tanti magari sottovalutano è questo Carlos Alberto perché voi lo vedete terzino destro ma se andate a vedere nei ruoli alternativi questo può fare il DC e un DC con 90 di velocità raga non esiste al momento sul gioco chiaramente pecca un po' per quanto riguarda la stazza perché un metro e ottanta magari non è ottimale visti gli attaccanti fisici di quest'anno però ha 3 di skill e 4 di piede debole pecca anche leggermente per quanto riguarda il work rate quindi magari qui dovete stare molto attenti a difendere un po' più alti se utilizzate questo giocatore però se magari lo beccate più alto questo con quel 90 di velocità vi rincorre tutti quanti gli avversari all'indietro ed è probabilmente un vantaggio avere praticamente un terzino DC che si tiene bene quasi tutti quanti chiaro poi bisogna stare molto attenti a non perdere i contrasti perché comunque ha un buon equilibrio però forza 85 unito a un metro e ottanta non è neanche troppo visto il 77 di aggressività però le statistiche difensive sono ottime questo ha anche un discreto passaggio corto quindi per quanto riguarda poi la fase di uscita ve la cavate anche discretamente 86 di agilità 87 di equilibrio questo con l'L2 quello che probabilmente si muove meglio fino ad ora e occhio perché per me è un giocatorone e magari non lo si vedrà tanto nel competitive perché non ci si spreca l'icon per di certo un difensore centrale però magari ritrovarselo più avanti anche con una sfida icon pensateci altra carta clamorosa è quella di Conatè che ormai si è upgradato 84 di velocità già lì lo vediamo normale alto un metro e novantaquattro quindi tutto perfetto 92 di velocità scatto nel dettaglio 87 di passaggio corto top pecca leggermente in agilità lui perché ha anche un body type più importante ottime le stats difensive ottimo il discorso relativo a forze e aggressività sto Conatè per me provatelo perché se la va a dare a battaglia con tutti quelli che abbiamo visto in precedenza e visto che anche il francese dell'iverpool è facilmente imbridabile altro giocatorone è Antonio Rudiger un metro e novanta alto alto qui il work il stesso discorso di Carlos Alberto un po' più manuale però calcolate che questo sta per prendere un ulteriore upgrade perché a meno che la Germania non faccia manco una vittoria al mondiale cosa difficile diventa 89 quindi si prende un altro più uno per quanto riguarda le stats velocità difesa fisico che già ora sono al top pecca anche lui leggermente di agilità nonostante abbia un po' di type un po' più snello magari rispetto a Conate e gli altri forza 91 aggressività 93 sono assolutamente i suoi valori di forza principali che lo rendono per me ancora oggi un top assoluto così come un top assoluto è anche questo Gerard Piqué normale alto un metro e novantaquattro velocissimo anche lui ottimi passaggi e quello con i passaggi migliori quasi da playmaker pecca lui si in agilità nonostante quella reattività di 88 si sente un po' di più e quello meno agile rispetto a quelli che vi ho fatto vedere al momento ottime le statistiche difensive tanta roba forza e aggressività anche lui è uno di quelli che è calato un po' di prezzo per il discorso del panico generale e la gente che non ha capito niente di staggiornamento ma Piqué è assolutamente ancora sulla crescita dell'onda così come anche Sergio Ramos un metro e 84 quindi per quanto riguarda la stats ha un po' di discorso alla Carlos Alberto 3 skill e 3 di piede debole alto normale quindi anche sul work rate sempre qua parliamo di un giocatore un po' più manuale discretamente veloce ottimi passaggi abbastanza mobile con l'L2 ottime le stats difensive leggermente bassina la forza 84 però poi recupera con l'aggressività Sergio Ramos considerando anche i link non potevano inserirlo all'interno di questa classifica l'ultimo posto lo faccio occupare a Ivan Ramiro Cordoba un altro giocatore che è salito incredibilmente di prezzo e fate ovviamente facile a capire il perché un metro e 73 è il suo unico problema raga perché poi ha basso alto come rendimento quindi difende molto bene straveloce è quello più veloce perché è bilanciato sia in accelerazione che velocità scatto tra quelli che vi ho presentato insieme a Tomori agilità 80 equilibrio 91 e reattività 84 quindi è vero che paga un po' fisicamente però comunque con attaccanti alti con il suo 91 di equilibrio il baricentro basso dovrebbe reggere discretamente statistiche difensive al top forza 84 un po' alla Ramos aggressività 89 io che vi devo dire raga questo è veramente forte anche perché linka con tutti perché prende sempre 3 dà il bonus alla serie A che è un campionato che quest'anno si sta utilizzando se avesse avuto qualche centimetro in più questo era da top 5 minima però una carta con queste caratteristiche visto il meta attuale io non mi sento di lasciarla andare così e quindi ve lo straconsiglio almeno provare perché assolutamente un giocatore così rapido vi può fare la differenza ragazzi per questo video è tutto quindi prima top post patch sui difensori centrali in descrizione vi ricordo tutti i link di riferimento alla piattaforma viola dove sono live ogni giorno vi prego di commentare dicendomi quali sono i giocatori che voi avete riprovato dopo la patch o preso proprio in questi ruoli così ci confrontiamo a me non resta altro che augurarvi una buona giornata sono i vostri Berowski ciao 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 ciao